Buongiorno a tutti, benvenuti al mio canale. Oggi preparo con voi una torta con gli susini e ricotta, diversa da quella che ho preparato nel video precedente. Questa torta è cremosa, deliziosa, con ingredienti semplici disponibili in ogni casa. Però prima di cominciare vi invito a iscriviti al mio canale, attivare il campanello così arrivano tutti gli notifichi. Come vedete adesso ho già preparato una quantità di susini pulita, l'ho tagliata a metà e ho tolto anche le ossa. Adesso passiamo per preparare la crema. Su una ciotola ho messo 400 grammi di ricotta e 130 grammi di zucchero. Aggiungo due uova. Poi aggiungo anche 100 grammi di yogurt e 40 grammi di farina e per il gusto metto la boccia di limone. Potete anche mettere la vaniglia. Grattugio la parte gialla come vedete e poi aggiungo anche un cucchiaio di zucco di limone. E dopo meschiamo tutti questi ingredienti per bene fino a che diventa un composto omogeneo. Adesso aggiungo quasi un cucchiaio di zucco di limone e con un frullatore comincio a meschiare tutto questo composto. Cerca 3 o 4 minuti fino a che diventa un composto omogeneo. Cerchiamo il più possibile di creare un composto uniforme e liscio. Allora, come vedete adesso il composto è quasi pronto. Ecco, un pochino liscio. Allora, lo lascio adesso da parte e passiamo per la preparazione di l'impasto di la torta. Allora, tutti gli ingredienti a temperatura dell'ambiente. su una ciotola metto 120 grammi di zucchero e 120 grammi di burro a temperatura ambiente. Allora, meschiamo tutti questi ingredienti per prima con un modo manuale. Li meschiamo per bene Allora, come vedete il burro e il zucchero sono diventati come una crema allora uso il frullatore per tutto il resto frullo per bene e aggiungo 2 uova poi aggiungo un cucchiaio di vaniglia un pezzico di sale frullo un'altra volta frullo per bene fino a che diventa un composto omogeneo Allora, per la farina ho 240 grammi di farina sitacciata allora sitaccio anche una busta di lievito e poi aggiungo 80 ml di latte le meschio con il composto di uova per bene come vedete e dopo aggiungo la farina poco alla volta e meschio tutto fino a che diventa un composto omogeneo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti adesso come vedete il nostro composto è pronto allora su un stampo di 24 cm coperto con una carta da forno metto il composto l'aggiusto per bene a questo modo come vedete allora ho aggiustato il composto di la torta per bene adesso è ora per mettere la crema a questo modo e l'aggiusto uguale allora ho aggiustato il composto della torta a questo modo come vedete adesso è ora per mettere gli sussini metto tutta la quantità sopra la nostra crema con un modo semplice come vedete e dopo metto un cucchiaio di zucchero sopra gli sussini così togliamo il gusto acido però non sono riuscita a filmare questa parte allora finisco la quantità di sussini e porto la nostra torta al forno caldo su 180 gradi la metto per 50 minuti e dopo vediamo dopo 50 minuti al forno la nostra torta è pronta vedete la parte centrale come si muove allora chiudo il forno e li lascio per 20 minuti a riposare la nostra torta è pronta eccola vedete ho una torta morbida saporetta perfetta per la colazione e anche per merenda spero che il video vi è piaciuto e se sarà così aspetto il vostro like e i vostri commenti magari condividete il video con gli amici e la famiglia e vi invito a iscrivervi al mio canale se ancora non l'hai fatto e attivare il campanello così arrivano tutte le nostre notizie grazie per la visione ci vediamo alla prossima grazie grazie a tutti